A partire dal primo di novembre, la tanto sospirata terza unità medica prenderà servizio presso il centro di microcitemia dell'ospedale di Crotone. Desideriamo ringraziare la direzione strategica e la direzione sanitaria di Presidio per avere alla fine raccolto le nostre istanze. Attendiamo ringraziare anche i media, le altre pubbliche amministrazioni e i cittadini per il loro supporto in questa faccenda. Ringraziamo il personale sanitario del centro di microcitemia per avere, sia pure in una situazione difficile, lavorato con la dedizione e la professionalità di sempre. Ringraziamo United, la federazione nazionale delle associazioni sulla talassemia, nella persona del suo presidente per il supporto ricevuto. Ed infine ringraziamo un amico della nostra associazione, che chiameremo Tonino, per averci fornito un prezioso aiuto nelle comprensioni delle dinamiche e delle leggi che regolano la pubblica sanità. Ubi amici, ibidemobes